Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, è intervenuto in merito all'incendio alla palazzina ex sede INAM. Sono molto rammaricato per quanto accaduto nella serata di ieri in viaturati, dove i gnoti hanno appiccato un incendio nella palazzina ex sede dell'INAM. Sino a sette anni fa circa in quella struttura erano ospitati gli uffici dell'ASL. Trasferiti gli uffici è stata completamente abbandonata, tanto da divenire oggetto di continue spogliazioni dal momento che chiunque può entrarci certamente non con buone intenzioni. L'ente proprietario dovrà necessariamente mettere in sicurezza l'immobile, sottolinea Miglio, poiché è inaccettabile che al centro di San Severo possa esserci un luogo aperto a malintenzionati, tanto da rappresentare un pericolo per la cittadinanza. Messo in sicurezza, mi auguro, conclude Miglio, che si trovi una soluzione definitiva a problema, la demolizione dell'immobile o la cessione al Comune di San Severo. Siamo disponibili qualora l'ASL volesse procedere alla cessione della palazzina.